allora direi che possiamo iniziare ok quindi oggi passiamo tutto il nostro tempo a parlare di use effect e di tutti i dettagli che ci servono per diciamo completare il discorso su questo hook che è estremamente importante che dovete per forza usare per il progetto d'esame ma non è solo una questione di progetto d'esame è una questione di gestire come abbiamo detto l'altra volta il ciclo di vita dei componenti e sulla base dello stato in cui si trovano per esempio quando vengono creati essere in grado di caricare i dati oppure quando cambiano delle proprietà o degli stati all'interno della vostra applicazione dovete essere in grado di agganciare questi eventi e di scatenare altre operazioni tipicamente il caricamento, aggiornamento, modifica dei dati verso il server non solo all'interno dell'applicazione quindi l'altra volta abbiamo visto le operazioni più semplici che erano quelle di caricamento iniziale dei dati del server e oggi vediamo tutto il resto quindi porteremo avanti la nostra applicazione abbiamo diciamo tutta la lezione di oggi fino alle 11.30 per fare tutte queste modifiche prima però dobbiamo finire il discorso e porci il problema di come fare almeno queste operazioni allora vi ricordo che i componenti hanno questo ciclo di vita ossia all'inizio quando appaiono nell'albero del virtual DOM vengono si dice montati da React quindi React sa che ha fatto apparire un componente nel suo virtual DOM che vuol dire che poi correndere apparirà effettivamente nel DOM vero cioè si vedrà nella finestra del browser se così è previsto e possiamo agganciare questo evento poi possiamo agganciare in tutti gli eventi di aggiornamento possiamo andare a fare qualcosa e questo qualcosa dipende da cosa abbiamo detto di fare alla user effect e eventualmente possiamo agganciare anche l'evento di unmounting cioè quando il componente sparisce dalla visualizzazione cioè dal virtual DOM abbiamo detto che usavamo la user effect l'altra volta abbiamo visto i possibili modi di usare la user effect ossia noi abbiamo due parametri per la user effect uno è la callback che passiamo che è il codice che vogliamo sia eseguito quando abbiamo bisogno e il quando abbiamo bisogno lo determiniamo col secondo parametro che può essere niente cosa abbastanza rara cioè ogni volta che il componente viene renderizzato inclusa la prima volta cosa molto più frequente ed è quella che abbiamo usato l'altra volta un array vuoto che significa solamente la prima volta che il componente appare nel virtual DOM cioè quando viene montato quindi va benissimo per esempio per chiamare una funzione che all'inizio carica i dati per la nostra applicazione oppure sia al primo render quindi quando il componente viene montato sia quando cambiano una serie di variabili che sono la lista delle dipendenze che noi inseriamo in questo array che se non vogliamo diciamo eseguire la callback tranne che all'inizio è vuoto se no avremo la lista di proprietà e stati che React monitora e se cambiano ci richiamerà la nostra callback come facciamo a fare qualcosa quando il componente viene smontato il nuovo evento è abbastanza raro nelle nostre applicazioni perché quasi mai abbiamo da disassociare o di rilasciare particolari risorse però se avete visto un timer per esempio potreste avere necessità di annullarlo e questo è il punto dove farlo bene la callback può ritornare una funzione che di nuovo è codice vostro che scrivete voi e che React eseguirà nel momento in cui il componente viene smontato ok in realtà a dire la verità vabbè dopo c'è scritto comunque ecco il life cycle dei componenti cioè il ciclo di vita dei componenti è una questione un po' più complicata di come la stiamo raccontando qui ma diciamo che per il nostro corso che è abbastanza diciamo così di base sulle applicazioni web e soprattutto per il numero di crediti che abbiamo che sono solo 6 non possiamo andare più nei dettagli ma sappiate che esistono hook per agganciare altri particolari eventi in questo ciclo di vita come l'use layout effect dopo che il DOM è stato mutato se dovessimo andare a toccare direttamente il DOM cose che eviteremo di fare in questo corso non c'è necessità mai di farlo in questo corso use memo perché ogni tanto qualcuno dirà è pesante ricalcolare fare tante operazioni se nulla è cambiato solo per fare il render eccetera questo è vero ci esiste un deducco apposta ma di nuovo nella nostra applicazione è tutto abbastanza leggero dal punto di vista di quello che scriviamo nel codice del render per cui possiamo tranquillamente ignorarlo e la stessa cosa vale per eventuali callback che non vogliamo ricreare ogni volta però non raccomandato in generale per il nostro corso se dovesse uscire fuori questa esigenza prima di tutto non uscirà in questo corso ma dovete prima documentarvi bene su come funziona e capire bene se effettivamente ne avete bisogno si può fare con quello che avete studiato fino ad adesso ok riprendo qualche punto che abbiamo già visto più che altro per fissare bene l'idea perché mi raccomando questa è una cosa molto importante all'esame visto anche le esperienze degli anni passati sostanzialmente nel progetto andiamo oltre a provarlo e vedere come funziona e così via andremo a vedere che richieste fa verso il server perché questo ci consente facilmente di capire come sta funzionando il vostro progetto e poi nel codice del client sicuramente un giro sulle varie use effect che avete inserito lo faremo sicuramente l'abbiamo fatto negli anni scorsi lo facciamo probabilmente anche quest'anno perché? ma perché le use effect sono quelle che effettivamente contengono la logica di funzionamento della vostra applicazione cioè quando decidete di caricare i dati quando decidete di aggiornare dei pezzi di interfaccia sulla base di stati interni o proprietà e così via quindi capendo come funzionano le vostre use effect capiamo abbastanza bene come funziona tutta l'applicazione ok questo non vuol dire che non andremo a vedere come sono fatti gli stati eccetera poi a seconda di cosa avete scritto mentre guardiamo il codice è un po' di qualcosa di stati eccetera qualcosa viene fuori e ne parliamo se c'è bisogno ok bene fatta questa premessa dobbiamo prima di tutto ricordarci che la nostra use effect serve principalmente per lavorare con gli stati dell'applicazione che sostanzialmente vuol dire i dati o stati in cui si trova l'applicazione che non sono solo stati di presentazione cioè non è solo una questione di visualizzazione ho aperto chiuso un menu ma è solo una questione che voglio aprire e chiudere il menu non è che effettivamente c'è un cambiamento di dato o qualcosa di questo tipo oppure quegli stati temporanei del form io scrivo in un campo del form e lo stato cambia perché lo devo tenere allineato col contenuto del form perché faccio i form di tipo controlled questi sono stati di presentazione che non porterò sul server non sono dati che viaggiano del server al client e viceversa perché sono semplicemente stati di servizio per far funzionare la mia interfaccia a me in questo momento interessano questi stati a sinistra gli stati applicativi ok di solito gli stati applicativi dell'applicazione sono gestiti a livello globale o quasi globale cioè li troveremo in app sostanzialmente perché quasi tutte le parti dell'applicazione hanno bisogno di conoscere questo stato quali dati sono caricati e così via a seconda dei componenti che devono poterci accedere mentre gli altri stati ad esempio spesso sono all'interno di componenti che li gestiscono come che sono lo stato del form i campi del form e così via saranno in un componente che gestisce il form ok quindi noi abbiamo già visto il caricamento dei dati abbiamo già seguito questa raccomandazione l'altra volta che era di farci un file apposta sul client che chiamiamo API in realtà forse dovevamo chiamarlo JSX va bene ma comunque il concetto è lo stesso per mantenere le chiamate javascript la fetch che è la funzione che carica i dati da un server in giro per la rete e noi la caricheremo dal nostro server queste funzioni le teniamo separate per nostra comodità perché così sono richiamabili da più parti nel resto del codice facilmente siccome la fetch vi ricordate ritorno una promise la promise può essere risolta può essere fulfilled o rejected a seconda di come viene risolta magari vogliamo comunicare alla nostra applicazione alcune informazioni o altre per processarle e così via e bene tenerle separate e in più se non sviluppaste voi il server potreste sempre scambiare API JS con qualcosa che ritorna dei dati finti tanto per provare la vostra applicazione va bene allora dunque questa è l'architettura nella quale stiamo lavorando abbiamo finito di mettere a posto tutti i pezzi sostanzialmente noi adesso stiamo sistemando il lato client quindi componenti React gestendo bene le use effect che avranno del codice quindi delle callback che vanno a chiamare le funzionalità in API cioè delle funzioni che scriviamo noi che vanno a chiamare la fetch e caricano i dati dal server quindi noi stiamo finendo di mettere a posto questo lato della nostra applicazione fatto questo avremo finito una prima versione dell'applicazione diciamo completa completa dal punto di vista delle funzionalità cioè non ci manca nulla possiamo immagazzinare informazioni su un server e recuperarle dal server ci mancherà poi qualcosina che vedremo una prossima volta come l'autenticazione e l'uso di più utenti eccetera che sono tipiche dell'applicazione web che però appunto ci richiedono di fare qualche passetto ulteriore ma diciamo i componenti base dell'applicazione sono terminati ok le informazioni dell'applicazione noi i dati dell'applicazione li caricheremo sempre dal nostro API server perché li teniamo nel database se vogliamo qualcosa di persistente in un'applicazione web deve essere tenuta in un luogo in cui i dati persistono e non può essere il browser il browser tutte le volte che ricarichiamo una pagina ricarica tutto da zero e perde tutta l'informazione che aveva quindi ci serve un posto che è il server dove i dati vengono immagazzinati quindi nel database come già sappiamo fare abbiamo già il server che fa questa operazione e noi cosa dobbiamo fare dobbiamo diciamo ricuperare le informazioni dal server e portarli dentro lo stato dell'applicazione e viceversa quando abbiamo bisogno di salvare i dati li dobbiamo recuperare dallo stato dell'applicazione e mandarli al server in maniera che il server li salvi queste operazioni in gergo tecnico vengono chiamate reidratazione e deidratazione disidratazione forse suona meglio in italiano comunque diciamo è solo una questione di intendersi sui termini nel momento in cui dobbiamo reidratare la nostra applicazione che sarebbe come una specie di scheletro in cui non abbiamo messo l'acqua e l'acqua sono i dati lo facciamo tipicamente all'avvio con i dati che servono e quindi il posto migliore come abbiamo già visto l'altra volta è in una user effect dove mettiamo una funzione una callback nella quale scriviamo il codice che va a caricare questi dati quindi chiamerà api che poi chiama le fetch e lo facciamo eseguire solamente quando il componente della nostra applicazione viene montato cioè viene inserito per la prima volta nell'albero del virtual dom cioè in app facciamo user effect con la parentesi aperta e chiusa quadro aperta e chiusa quindi zero dipendenza eseguita solo all'avvio la prima volta quando app viene inserita nell'albero del virtual dom cioè quando si apre la nostra applicazione e l'opposto faremo ma questo opposto di disidratare cioè prendere il succo e portarlo sul server verrà fatto molte volte tutte le volte che abbiamo dei dati che devono essere salvati ok questo non l'abbiamo ancora visto l'argomento di oggi ecco vi faccio notare che leggere i dati dal server dovrà capitare non solo all'avvio che è il momento naturale perché se no l'applicazione è vuota ma anche periodicamente per andare a vedere se qualcun altro ha cambiato le informazioni sul server perché questo è da tenere ben presente oggi abbiamo sempre solo un utente ancora quindi saremo sempre solo noi che provando e modificando le cose sull'applicazione andiamo a modificare il database ma dalla prossima volta inseriamo i più utenti quindi altri utenti che possono agire indipendentemente da noi sui dati e quindi ci sarà sempre il problema di capire se i dati sono aggiornati oppure no questo è da tenere ben presente noi non stiamo scrivendo un'applicazione che gira sul nostro computer se io faccio gira un'applicazione sul mio computer sono solo io che lo uso perché di computer ce n'è uno e di utente ce n'è uno nelle applicazioni web non è così perché sul server più persone più utenti più client possono agire contemporaneamente questo è sempre da tenere bene a mente ok noi scriviamo un'applicazione ed è rarissimo che scriviamo un'applicazione di tipo web perché lo uso un utente solo noi scriviamo un'applicazione web perché la possano usare più utenti contemporaneamente se no avremmo scritto un'applicazione normale giusto ok quindi questo è sempre da tenere bene a mente mi raccomando perché poi all'esame questo aspetto sembra un po' sfuggire perché voi scrivete la vostra applicazione la provate per conto vostro e non pensate mai che ci può essere una seconda persona che uno secondo utente terzo utente che usa l'applicazione però questa è la condizione normale poi quando voi sviluppate un'applicazione web ok ma lo risottolineeremo la prossima volta allora come fare l'abbiamo visto l'altra volta use effect dipendenze con l'array vuoto la nostra funzione come callback non può essere direttamente async per cui se la volete fare async dovete definirne una dentro la funzione che è passata alla use effect e poi chiamarla come viene fatto qui la funzione che va a caricare i dati io qui non ho messo api per comodità sulla slide c'è direttamente la fetch però la funzione che carica i dati ci metterà un po' a darmi un valore cioè il valore che sono i dati che devo visualizzare nella mia applicazione che faccio nel frattempo un'altra volta questo aspetto l'abbiamo trascurato ma se ci vuole un po' di tempo a caricare i dati cosa succede che quando apro l'applicazione l'applicazione si apre e non si vede nulla è come se voi aveste nel vostro laboratorio l'applicazione senza films avete un array vuoto e noi abbiamo le domande le risposte non c'è nulla ok per un po' è così poi quando arriveranno i dati del server verrà popolata la vista di questi dati e quindi react si preoccuperà di fare il render di questo di questi componenti che hanno i dati al loro interno e vedremo i dati quindi vedremo la lista dei film delle risposte e così via quindi come facciamo a gestire questo caso che sarebbe di sua natura un po' scomodo possiamo fare una prova vediamo un po' questo è il week 12 quindi la solita storia ho messo sul sul github ieri sera e la cartella week 12 e il nostro client è server quindi sto provando questo codice e se non ho sbagliato dovrebbe non avere nulla di quello di cui parliamo oggi quindi piano piano andiamo a costruirlo quindi questo è il server quindi io lancio il mio server lancio il client su un altro terminale react client npm run dev vediamo cosa viene fuori avete visto che ci ha messo un po' a caricare i dati no? è un po' lo facciamo vedere un po' meglio io ho messo un ritardo apposta nel server quindi nel codice che trovate nel server adesso sul github ci sono dei ritardi apposta che ho messo per far vedere meglio questi aspetti perché se no con i pochi dati che abbiamo i computer veloci che abbiamo queste cose si faticano a vedere dunque dov'è che mettiamo answer delay così per un po' è vuoto poi arriva la risposta del server avviene avviene il re-render da parte di react perché noi abbiamo settato uno stato lo stato dentro app cambia react se ne accorge ci fa render di nuovo dell'applicazione con il nuovo stato e vengono visualizzati i dati possiamo fare ancora questo così per due ma avete sicuramente visto spero ci va un po' di tempo perché il serve ah si in realtà più che altro sopra dovevo mettere lo stesso ritardo da un'altra parte answers si quindi non ritardo ecco ne approfittiamo per metterlo va così intanto ripassiamo un po' di javascript questo è api answers che dovrebbe essere ciò che viene chiamato e se non me lo ricordo guardo tab network ve l'ho detto all'esame abbiamo sempre il tab network aperto cos'è che chiamo chiamo answers no questions 1 answers no allora chiamo question 1 answers quindi non è questa api è question 1 e dov'è question 1 answer eccolo no questo è l'error questo questa è la risposta ok quindi come faccio a mettere un ritardo lato server semplicemente dico a node mi ricordo che lato server javascript gira dentro node dico a node non eseguire questa funzione res json result che è quella che restituisce i dati al client subito ma eseguila tra un po' quindi come faccio set timeout devo creare una callback col codice che voglio eseguire virgola il tempo che voglio metterci io qui avevo già preparato una variabile answer delay sul server una cost ma per comodità perché lo usate in tanti posti quindi anche per le altre chiamate quando andremo a scrivere i dati e così via riproviamo tutto vuoto poi piano piano arriveranno le risposte dal server e si popola il contenuto ma come faccio a gestire questa situazione non è particolarmente bello che voi apriate un'applicazione ed è tutto vuoto sembra che non funzioni poi si caricano i dati e poi arriveranno i dati per carità diciamo che con un'applicazione così se il problema è solo questo chiamiamolo problema l'esame lo passate tranquillamente ok però visto che siamo qui stiamo ragionando su use effect sugli stati su tutte queste cose diamo anche qualche indicazione su come gestire questi problemi perché prima o poi vi capita di doverli gestire allora come fare bene allora prima di tutto devo decidere cosa voglio far vedere nel momento in cui non ho ancora i dati perché l'applicazione deve essere renderizzata o il browser mi fa vedere una pagina bianca allora sembra che non funzioni nulla e questo lo eviterei per principio oppure l'applicazione mi fa vedere il suo scheletro ma non ha ancora i dati ok devo decidere che cosa mettere in questo scheletro ci sono tanti approcci più o meno carini però il punto è che il fatto che non ho ancora i dati è uno stato dell'applicazione quindi io sto dicendo la mia applicazione in questo momento sei in uno stato in cui non hai dati da far vedere non è che i dati ci sono li ho caricati e la lista delle domande risposte è vuota che è un'altra cosa sarebbe giusta la visualizzazione vuota se non ci sono dati io li sto aspettando i dati non so cosa ci sarà ok quindi devo prima di tutto sapere questa cosa decidere di usare di di trattare questa condizione in questa maniera quindi aspetto sto aspettando i dati quindi farmi uno stato apposta per capire che sto aspettando e poi sulla base di questo stato decidere che cosa far vedere e cosa far vedere può essere la cosa più banale faccio vedere un'iconina un messaggio loading sto caricando i dati puntini attendere prego il famoso messaggio si vedeva sull'applicazione una volta o qualcosa di più carino non fa nulla quando questo stato cambia quindi mi dice non sei più in loading hai dei dati io faccio sparire questa visualizzazione attendere prego stai caricando i dati sto caricando i dati e visualizzo effettivamente i dati cioè il codice che ho scritto finora quindi mi faccio uno stato in più di solito è di tipo boolean quindi sto caricando o finito di caricare quindi o è true o è false all'inizio sarà true valore iniziale true perché carico i dati per prima cosa e eventualmente quando ricaricherò dei dati potrò rimetterlo a true quindi non è necessario che sia solo all'inizio è uno stato che mi cambia la visualizzazione e che mi farà vedere qualcosa di diverso ok quindi qui ha fatto vedere questo orologio sono tante animazioni tante cose carine che si possono fare e direi che possiamo possiamo fare una prova questa è la prima prova che facciamo così intanto ci rinfreschiamo le idee su come funziona l'applicazione oggi lavoriamo abbastanza sul codice quindi noi siamo in app questo è il codice che avete sul github quindi sto partendo da quel codice abbiamo il question answer list ho riarrangiato un pochino due cosine cioè il cost question è stato portato fuori dalla use effect ma non fa nulla questo è perché perché in realtà io non ho un meccanismo di selezione delle domande quindi devo decidere da che domanda partire ho messo questo concept per non complicare dopo l'applicazione un'applicazione vera non so ci sarà o la lista delle domande oppure decidete di far vedere sempre la prima non lo so fate voi ok però cerchiamo di mantenere l'applicazione semplice sennò passiamo il tempo a scrivere codice diciamo poco interessante allora voglio gestire questa questione del caricamento ho detto lo faccio con uno stato se qualcuno ha delle altre idee mi raccomando dica perché è importante che le valutiamo perché magari non so c'è qualcosa cosa a cui non abbiamo pensato e tre anni che facciamo il corso avremmo pensato abbastanza bene però magari a qualcuno viene il dubbio di farlo diversamente questo è lecito e cerchiamo di capire come mai non si può fare o magari si può fare ma porta degli svantaggi allora facciamo come l'ho chiamato initial loading set initial loading mi raccomando la coerenza in questi nomi ma questo penso che sia abbastanza scontato quindi true ho chiamato initial loading potevo chiamarlo loading insomma come volete l'importante è intendersi uso gli stessi nomi perché se poi devo fare copia e incolla così facciamo prima all'inizio è true e quindi devo usare questo stato per far vedere qualcosa di diverso nel momento in cui visualizzo il contenuto della mia applicazione ora la mia applicazione ha un albero di componenti abbastanza semplice ha allora un router ha l'anser root quindi c'è l'anser root che ha un header e un container con la domanda e le risposte ok io devo caricare la domanda e le risposte quindi potrei pensare di non far vedere domande e risposte ma di far vedere qualcosa di diverso nel momento in cui non ho ancora le informazioni sulle domande e risposte e notate non posso determinarlo dallo stato di question e answer list perché lì non posso distinguere tra la lista vuota che è vuota perché deve essere vuota e la lista non ancora caricata quindi per questo ho bisogno dello stato addizionale allora mi farò passare una props che chiamerò initial loading è così initial loading se è vera faccio vedere qualcos'altro io avevo già preparato un componente loading apposta quindi questo l'altra volta non c'era loading uozi altrimenti faccio vedere tutto quello che c'è sotto che è quello di prima ok quindi initial loading devo passarlo quindi in app answer root facciamo così mandiamo a capo tanto dopo non ho bisogno initial loading uguale initial loading quindi attribute uguale valore il valore è lo stato che io ho messo in app questo qui che ho appena messo ok vediamo cosa succede provate sempre ecco questo è lo stato iniziale quindi sotto avviene il caricamento dei dati ma io in questo momento non li visualizzo ancora per farvi vedere cosa ho messo questo qui è un'iconina tra le tante che ci sono in react no scusate in bootstrap in bootstrap react che è questo è lo spinner se non vi piace è pieno di altre iconine che potete usare se no scrivete semplicemente loading o qualcosa di questo tipo va bene lo stesso ma così vi faccio vedere qualcosa di un po' più divertente allora initial loading se nessuno me lo mette a false la visualizzazione continuerà a farmi vedere solo il loading quindi questo spinner l'iconina che gira chi è che me lo deve mettere a false beh lo devo mettere a false quando ho terminato il caricamento come faccio a sapere che ho terminato il caricamento devo tornare in app e qualcuno sa dirmi che ho terminato il caricamento no perché nel codice della use effect io posso sapere quando ho terminato il caricamento no quando è che ho terminato il caricamento quando ho caricato tutte le risposte boh ci può stare proviamo poi vediamo mi chiedo se qualcuno vede dei problemi in questo codice allora mi raccomando non si può scrivere qui sotto qui sotto qui sotto è sbagliato scrivere quello che sto per scrivere cioè set initial loading false se lo scrivo qui sotto si fanno le due chiamate l'api ritorna le promise ancora da risolvere e poi mi fa subito initial loading false sparisce lo spinner ma i dati non ci sono ancora perché le promise non sono ancora risolte quindi qui sotto non posso scrivere se voglio scrivere qui sotto devo cambiare la struttura del codice devo fare una funzione async fare await await allora dopo due await che hanno avuto successo posso scrivere set initial loading false però devo avere la await che aspetti non ritorno delle funzioni ok quindi adesso io sto facendo vedere una soluzione c'è chi preferisce le promise con il then catch c'è chi preferisce le await col try catch se dovete gestire gli errori fate voi per noi l'esame è indifferente potete anche fare un misto delle due cose quando viene comodo avete solo una promise mettete punto den va benissimo se ne avete più di una da aspettare di solito con le await viene un po' più comodo perché non dovete mettere la seconda dentro il den della prima come abbiamo già detto ma siccome poi dopo spezzeremo il codice in due use effect per ora lo tengo così però questa è un'anticipazione ok quindi caricata la lista delle risposte metto initial loading false io di per sé dovrei aver risolto il mio problema proviamo un po' a vedere allora carico fuori lo spinner e poi sparisce e vengono fuori le risposte e vi faccio sempre vedere cosa capita nella rete perché se non sapete cosa capita nella rete non state programmando un'applicazione web cioè lato client sì però avete sempre da interagire col server guardate che è la richiesta verso vedete che queste uno è answer uno e la question numero uno e le answers sono la question uno answers ci mettono un po' ad avere la risposta infatti mi è venuta fuori l'iconina risposta del server lenta ok ma l'ho fatta apposta lenta quindi qui ci sono le solite risposte c'è il nostro json mentre il browser attende la risposta alla fetch e qui è successo qualcosa c'era lo spinner e poi viene aggiornato il contenuto rivediamolo ancora una volta quindi notate che qui dove sono andato ecco attendiamo e poi arriva le risposte ok noi dobbiamo scrivere del codice che sia funzionante in qualsiasi ordine in qualsiasi modo ci arrivino delle risposte dal server ok il quale può metterci più o meno tempo per i fatti suoi a causa del server a causa della rete qualsiasi motivo noi proviamo tutto in localhost per cui il tempo ce lo aggiungiamo noi perché localmente non c'è c'è ben poco che può andare storto no perché il computer è veloce e la rete è locale interna quindi non è che ci può succedere qualcosa però se la rete ci mette più tempo a darvi la risposta siete su una connessione mobile qualsiasi cosa che può succedere dovete essere in grado di gestire queste situazioni ok quindi abbiamo fatto una semplice modifica per gestire il fatto che le risposte dal server possono metterci un po' di tempo ad arrivare quindi abbiamo deciso una visualizzazione da adottare quando ci vuole un po' di tempo perché le risposte del server arrivino e l'abbiamo implementata con uno stato che viene impostato a true false a seconda della condizione in cui ci troviamo in attesa oppure no però l'abbiamo fatto solo all'avvio dell'applicazione per questo l'ho chiamato initial loading ma di per sé va benissimo usarlo tutte le volte che caricate dei dati dal server ok ovviamente in prima battuta va bene non metterlo perché perché comunque è una complicazione addizionale se volete solo estetica no avete visto prima prima c'era il contenuto vuoto c'è la lista vuota e poi si è riempita va bene ok se vogliamo fare le cose un po' più interessanti dal punto di vista grafico far capire all'utente che cosa sta succedendo è bene aggiungere questo stato ma prima di tutto l'applicazione deve comunque funzionare e funzionare correttamente tornando al nostro esame di cui parlo un po' oggi all'esame non è che perché avete messo il loading e poi c'è qualcosa che non funziona che prendete un bel voto perché c'è il loading no prima l'applicazione deve funzionare e poi se c'è anche il loading ci sono tutta una serie di cose magari uno può pensare al 30 load ma se l'applicazione non funziona o dei problemi seri è chiaro che quella è la priorità se siete in ritardo perché giustamente avete tanti esami da dare e vi manca il tempo non mettetevi a fare il loading mettetevi a sistemare bene l'applicazione prima di tutto chiaramente sono consigli abbastanza scontati però insomma ecco testate l'applicazione sempre col bottoncino disable cache perché è un po' più semplice capire cosa sta succedendo non è impossibile farlo se togliete il bottoncino però poi vedete le risposte come in laboratorio qualcuno c'era il 304 non modificato eccetera non si capisce più cosa succede ma della serie 300 ma in realtà poi l'applicazione vede 200 quindi il punto che funziona eccetera se voi mettete questo bottoncino uscite dai vostri problemi diciamo causati dall'ottimizzazione che effettivamente si fa nelle applicazioni reali e riuscite a seguire meglio il flusso ok bene quindi se non ci sono dei dubbi particolari io direi che possiamo andare avanti è la parte un po' più succosa diciamo così della lezione di oggi no quindi la parte più diciamo succosa interessante è non certo mettere il waiting così che l'abbiamo fatto per fare un po' di ripasso sull'applicazione ma capire come fare gli aggiornamenti dei dati verso server che abbiamo lasciato da parte e giovedì nel laboratorio ovviamente ci sarà da fare questa parte quindi oggi la vediamo giovedì la farete prima di andare a fare questo discorso dobbiamo ricordarci che la nostra come vi dicevo prima è un'applicazione web quindi quando andiamo a fare le modifiche sul server qualcun altro potrebbe aver fatto altre modifiche questo è sempre da tenere a mente non è un'applicazione locale in cui è solo il nostro codice che decide che cosa fare il nostro codice comunica con un server con il quale ha altri codici altri client altre istanze di client lo stesso nostro codice ma altri client che si trovano in stati diversi comunicano anch'essi che è il normale sistema di tutte le applicazioni web voi prenotate un posto sul treno o sull'aereo ci siete voi con la vostra applicazione client che va sul server delle ferrovie e c'è qualcun altro o altro ancora comunicano vanno a scrivere vanno a fare delle richieste hanno delle risposte e tutti devono essere serviti ma dovete avere una logica di funzionamento della vostra applicazione che vi impedisce di fare cose non corrette tutti prenotate lo stesso posto banalmente in un sistema di prenotazione quindi c'è da capire come fare a gestire i conflitti che si creano a causa del fatto che abbiamo più di un client n client ok e poi vabbè i loop infiniti ma questo è un problema più che altro della use effect di cui diciamo dopo perché nel momento in cui mettiamo come dipendenze diciamo valori che non sono singole variabili bisogna fare un po' attenzione questo però non nulla ha a che fare col problema dei client cominciamo dal problema più difficile diciamo così perché non abbiamo una soluzione perfetta in questo corso questo è un po' triste però purtroppo è così sempre sei crediti quindi noi abbiamo il nostro API server e ci sono più client browser dispositivi mobili smartphone e così via tutti vanno sul nostro API server a fare delle chiamate e quindi c'è il problema che se qualcuno modifica lo stato del server quindi va a modificare il database e noi come client che non ha fatto la modifica quindi non può saperlo ci troviamo a lavorare sugli stessi dati come facciamo a essere informati del fatto che qualcuno ce li ha modificati in questo momento non possiamo essere informati ok perché perché il meccanismo delle applicazioni web è io quando ho bisogno vado a chiedere al server e il server mi dà una risposta il meccanismo delle applicazioni web classiche incluse queste di questo corso single page application con ciò che abbiamo fino ad oggi e che avremo fino a fine corso è quando abbiamo bisogno andiamo al server a chiedere informazioni il server ci dà una risposta quando abbiamo bisogno di fare delle modifiche andiamo al server a dire la modifica che vogliamo fare e il server ci dà una risposta non abbiamo purtroppo un meccanismo che dal server di sua iniziativa ci comunichi sul client che qualcosa è cambiato perché il protocollo HTTP non è nato in questa maniera ci serve un altro meccanismo per chi è curioso ci serve un meccanismo tipo WebSocket un meccanismo di tipo Publish Subscribe e così via non è impossibile farlo si fa ma è abbastanza al di fuori di cosa facciamo in questo corso ci vorrebbe un corso da 10 credit e non da 6 per cui lo lasciamo fuori quindi noi dobbiamo cercare di mitigare il problema limitare il problema il più possibile per quanto possiamo fare dicevo non è impossibile perché è pieno di applicazioni web che lo fanno se voi aprite un documento condiviso un Google Doc per fare un esempio ma può essere qualsiasi altra cosa quelli di Microsoft chiunque io scrivo da una parte e mi compare dall'altra aprite lo stesso documento avrete provato sicuramente scrivo qualcuno scrive intanto dall'altra parte si vede cosa viene scritto bene ovviamente chi scrive lo dice al server ma la parte difficile è che il server dica automaticamente dall'altra parte che è cambiato qualcosa e quindi di far comparire questa cosa che è cambiata immediatamente questa è la parte difficile si può fare appunto ci sono delle tecnologie che ci consentono di farlo ma noi nel nostro corso non lo faremo e ovviamente non lo pretenderemo ok quindi come facciamo a risolvere il nostro problema in questo corso beh abbiamo una soluzione questa diciamo tradotta in inglese speriamo che sia giusta meglio di niente la soluzione del meglio di niente ossia quando c'è bisogno di fare delle modifiche o di lavorare sui dati l'applicazione web richiede i dati aggiornati al server e diciamo non è una soluzione definitiva perché tra quando chiediamo i dati aggiornati e quando chiediamo di fare una modifica su quei dati qualcuno può sempre ancora infilarsi quindi non è una soluzione perfetta però è una soluzione come scritto meglio di niente quindi quando ci capita di dover visualizzare dei dati non visualizzare cerchiamo di non visualizzare mai la copia locale dei dati ma se è possibile se è ragionevole di andare a richiedere la copia aggiornata dei dati del server quindi viene fuori che cambiamo root cambiamo pagina cambiamo visualizzazione e ci sono i nuovi dati da visualizzare anche se ce li abbiamo già dentro possibilmente andiamo a chiederli dal server senza arrivare all'estremo che ogni volta che tocco una cosa nell'applicazione ricarico tutti i dati perché questo è eccessivo anche per le nostre applicazioni non sarebbe ragionevole adesso l'applicazione ha solo una domanda e una lista di risposte però in un'applicazione che so all'esame magari ci sono un po' più di dati ci sono tre o quattro tabelle da gestire e non è che ricarico ogni volta che tocco qualcosa la lista degli utenti la lista dei dati dei film delle domande e i dettagli di ogni domanda e così via no cioè ricarichiamo ciò che c'è da visualizzare e che serve in quel momento all'applicazione questo va bene e ci risolve in parte il problema in parte perché comunque dicevo qualcuno può anche infilarsi potremmo addirittura pensare di periodicamente andare a ricaricare i dati quindi con un meccanismo di time out o interval ogni 5 secondi ricaricare i dati in generale questo non è richiesto all'esame a meno che non sia chiesto esplicitamente forse in un tema d'esame se andate a cercare una volta avevamo chiesto che so che almeno ogni 5 secondi si ricaricassero i dati al server perché ogni tanto non sappiamo più cosa chiedere in questi esami perché dobbiamo sempre inventare qualcosa di nuovo quindi non c'è nulla di male ci sarà una set time out che setterà uno stato che scatena un caricamento del server niente di particolare ok però diciamo non è la condizione in cui vogliamo normalmente lavorare e la soluzione reale invece come detto è che il server ci notifichi ma è al di fuori del diciamo di di quello che vogliamo spiegare in questo corso per questioni di dimensione del corso quindi noi cercheremo sostanzialmente ogni volta che andiamo a fare delle operazioni sul server di fare le operazioni sperare che queste vadano a buon fine se non vanno a buon fine è finito nel senso prenotate il posto sul treno e nel frattempo un altro vi ha fregato il posto e l'applicazione dirà il posto è occupato mi spiace riprova se va a buon fine ricarichiamo i dati che ci interessano nella visualizzazione per far visualizzare lo stato aggiornato ok quindi questa è una possibile soluzione ed è quella che adotteremo noi ok per far ciò vuol dire che periodicamente dobbiamo andare a ricaricare le informazioni del server quindi mettele in un array o in un oggetto la nostra question è un oggetto ricordate questo è un oggetto vuoto e l'array e la lista delle risposte è un array vuoto quindi sono oggetti o array una cosa che ci potrebbe venire in mente potrebbe essere di farci furbi con la use effect che adesso abbiamo la use effect e diciamo ok se qualcosa cambia noi abbiamo modificato un oggetto un array ok lo mettiamo nelle dipendenze lo use effect nella use effect nella callback andiamo a fare il caricamento del server abbiamo risolto il nostro problema nel senso come principio potrebbe starci ma ci sono delle cose a cui fare attenzione per cui eviteremo di fare così e poi vi faccio vedere come effettivamente fare quindi con la use effect dobbiamo come avete visto la use effect è molto potente come primitiva di gestione dell'applicazione react però bisogna fare attenzione a come viene usata in particolare quando abbiamo a che fare con oggetti o array che tipicamente sono degli stati ma non è detto che debbano essere per forza degli stati saremmo tentati di metterlo come dipendenze della use effect ogni tanto per esempio nel caso che vi dicevo prima cambiano perché io ho aggiunto una cosa e vorrei andare a ricaricare dal server per il motivo che vi dicevo prima ho editato eccetera ci sono dei rischi nel fare questa operazione adesso andiamo a vederli il rischio è sostanzialmente di creare un loop infinito cioè di fare in modo che la use effect veda sempre una dipendenza cambiata quindi richiami sempre la callback e la callback a sua volta cambia la dipendenza se io nella callback cambio la dipendenza ho creato un loop ok oltre all'ovvio loop ho dimenticato di mettere una dipendenza le dipendenze ma questo è per definizione la use effect se non ha il secondo parametro richiama sempre la callback ad ogni render questo se non è fatto apposta è un errore di programmazione gli altri invece sono un po' più sottili perché non sono così immediati da vedere per esempio vediamo un po' se qualcuno vabbè questo è facile sa dirmi qual è il problema qui qui abbiamo un form con un valore value on change handle change che setta il valore quindi c'è un form di tipo controlled con lo stato value che all'inizio è una stringa vuota un form in cui scrivo qualcosa e poi ho un contatore che io visualizzo numero di cambiamenti count che dovrebbe essere cambiato ogni volta che ho cambiato il contenuto del form ok questa sarebbe la mia idea di me che scrivo il codice cosa succede con un codice di questo tipo non ci mettiamo a provarlo se no perdiamo tanto tempo però pensateci un po' c'è una use effect ha una callback che fa set count prende il valore precedente fa più uno quindi set count mi raccomando è una modifica di uno stato quindi tutto ciò che abbiamo detto degli stati vale sempre se lo stato corrente dipende dal precedente non passo il nuovo valore non faccio set count c più uno faccio set count con una callback che prende come parametro il valore precedente dello stato e mi calcola il nuovo ok ma questo l'abbiamo già visto nelle lezioni scorse qual è il problema qui? ma qui è abbastanza banale no? qui non c'è il secondo parametro quindi questa callback ad ogni render viene eseguita ok? ma questa callback fa una modifica dello stato set count di count che viene usato nella visualizzazione quindi qui ogni volta che la callback viene chiamata crea un nuovo stato un nuovo valore count fa count più uno questo scatena render ma questo siccome non c'è il secondo parametro richiama di nuovo la callback e quindi andiamo avanti così e quindi vedremo dovremmo vedere in realtà questo count che continua a incrementarsi perché render nuovo che fa sì che la callback venga chiamata è generato dall'operazione della callback e quindi è andato in ciclo infinito in loop ok? dico dovremmo vedere perché perché react in realtà ogni tanto se ne accorge ci ferma cioè se io faccio più di non lo so quanto è il limite 20, 30, 50 render di seguito dopo che ho scatenato un'azione vuol dire che c'è un loop infinito smette e ci darà un errore sulla console ok? ovviamente questo è un problema perché se react smette vuol dire che la nostra applicazione si ferma e non funziona più ok? però questo è un errore di programmazione da correggere in fase di debug ok qualcuno ha dei dubbi su questo codice? è convinto che dovesse funzionare? come facciamo a sistemare questo codice? questo è lo stesso codice di prima solo con la spiegazione a sinistra mettiamo una dipendenza e facciamo in modo che la callback venga eseguita solamente al verificarsi di una condizione che è indipendente da quello che facciamo nella callback perché se è indipendente dalla callback torniamo come prima non possiamo scrivere account qui ovviamente ma noi cosa volevamo fare? volevamo incrementare di uno ogni volta che value cambiava ma value è una variabile cioè a uno stato va bene lo possiamo mettere come valore nella lista delle dipendenze della useEffect benissimo si può fare automaticamente ogni volta che cambierà value e value cambia ogni volta che facciamo setValue che vuol dire ogni volta che si scatena l'evento onChange ci scriviamo qualcosa nel campo o cancelliamo qualcosa nel campo questo count si incrementa quindi viene fatto setCount cc più 1 e poi si fa il nuovo render la useEffect dopo che è stato fatto il render va a vedere l'orario di value è uguale a prima e smette quindi non chiama più la callback e io cosa faccio? e io attendo che l'utente faccia un'altra modifica nel campo se no non si fa più nulla e questo è giusto il comportamento corretto quindi occhio ai render infiniti se con la useEffect ho il rischio di fare un'operazione che mi porta a un ciclo infinito dobbiamo sempre fare attenzione a cosa faccio quando scrivo il codice della callback della useEffect non è l'unico caso in cui si possono verificare render infiniti se io faccio un asset di uno stato durante l'operazione di render a qualcuno sarà capitato in laboratorio ho lo stesso rischio però deve essere durante l'operazione di render quindi bisogna che ogni volta che faccio render richiamola di nuovo la setState che è la stessa con un valore diverso che è lo stesso problema ok? però nella useEffect diciamo è più facile sbagliarsi quindi mettiamo in evidenza questo aspetto secondo esempio questo è più difficile quindi abbiamo sempre il nostro campo input text value secret value on change change numero di segreti count secrets quindi uno stato e sostanzialmente come prima un value è un count solo che questa volta li ho messi in un oggetto all'interno dello stesso stato ok? quindi al mio value secret value on change vado a prendere il vecchio oggetto e cambiarci il valore di value con il modo con il quale dicevamo di fare con le set degli stati creando un nuovo oggetto come faccio a creare un nuovo oggetto? apro la graffa ci copio i vecchi valori e in più ci sovrascrivo il nuovo valore che mi interessa value che esisterà già ma qui prende e ci mette un nuovo valore ok? e qui secret c'è nella dipendenza della use effect quindi se io scrivo secret che ho cambiato un po' il codice non è solo più un count se io ci scrivo secret faccio count secret più uno ok? quindi il contatore si muove solamente quando nel campo scrivo secret ok? quindi scrivo secret il contatore aumenta di uno poi cancello riscrivo secret aumenta di uno e così via ogni volta che scrivo secret aumenta di uno cosa c'è che non vai questo codice? che sembra a posto e il problema è che nel momento in cui io faccio long change io ho correttamente aggiornato il mio stato che è un oggetto perché ho creato un nuovo oggetto perché se voglio cambiare il valore dello stato e lo stato contiene un oggetto devo creare un nuovo oggetto un nuovo array con dentro nelle proprietà negli elementi che mi interessano il nuovo valore questo è quello che avevamo sempre detto quindi questa operazione di aggiornamento dello stato è assolutamente corretta e va fatta così quello che è sbagliato è che secret qui come dipendenza da use effect è un oggetto e quindi ogni volta che faccio la set secret si crea un nuovo oggetto per cui secret sarà un riferimento a un nuovo oggetto quindi ogni volta che faccio la set dello stato si crea un riferimento a un nuovo oggetto e di conseguenza ogni volta che si fa render la use effect richiamerà di nuovo la callback ok la callback fa anch'essa un nuovo oggetto se la callback fa il nuovo oggetto si crea il ciclo di prima ok qui il punto è che si crea solamente quando io scrivo secret è l'unica differenza ok quindi qual è il modo di correggere questo problema in realtà questo problema non si può correggere in maniera facile il problema è che abbiamo un oggetto e gli oggetti se noi li teniamo in uno stato dobbiamo ricrearli ma se avessimo un array è la stessa cosa dobbiamo ricreare l'array perché dobbiamo fare in modo che react capisca che c'è un nuovo oggetto nuovo array nello stato per fare il render questo non ci piove non possiamo scappare da questa cosa e quindi come risolvere il problema e il problema lo risolviamo non creandolo banale non usiamo mai oggetti o array come dipendenze nella use effect se dobbiamo in qualche maniera usare qualche valore di qualche oggetto lo possiamo fare ma devono essere valori che non siano né oggetti né array ok quindi per esempio prima possiamo per correggere l'esempio di prima possiamo scrivere secret.value secret.value ci sta va bene è una stringa la stringa è un tipo primitivo in javascript come il numero come il boolean ok e non define ecc che non ci interessa quindi questo si può fare se avete un array per esempio potete ragionare se per caso la proprietà punto length può essere utile cioè se a voi per caso non è detto però per caso interessa che l'array ha cambiato di dimensioni array punto length è un qualcosa che si può usare come dipendenza della use effect ok quindi chiaramente se edito qualcosa nell'array non mi può funzionare ma se aggiungo o tolgo da un array il punto length può essere utile ok quindi cerchiamo di evitare di usare oggetti come dipendenze della use effect e array come dipendenza della use effect e se non possiamo farne a meno chiediamoci se non è che la nostra use effect piuttosto dipende da uno specifico campo dell'oggetto dell'array un elemento dell'array ok e quello è quello che va messo nelle dipendenze se non è possibile forse allora dobbiamo ragionare sull'organizzare diversamente lo stato possiamo spacchettare l'oggetto in più stati così che magari abbiamo la possibilità di indirizzare i singoli valori quando c'è bisogno ok quindi stesso problema si verifica con gli array ecco gli array il caso degli array forse per voi è un po' più comune perché molto spesso nell'applicazione i dati li teniamo in un array come voi in laboratorio avete l'array con la lista di film io qui ho l'array con la lista delle risposte quindi se noi abbiamo una use effect e vogliamo fare delle operazioni quando cambia la lista dell'array quindi non so la lista delle risposte saremmo tentati di metterci answer list oppure film list quello che volete evitate se proprio dovete farlo e funziona bene per il caso vostro fate punto length e se non funziona per il caso vostro dovete ragionare sul riorganizzare riorganizzare gli stati in maniera che avete una variabile che effettivamente può essere messa come dipendenza della use effect ok tra poco vediamo come fare perché è un caso abbastanza comune ok bene quindi abbiamo fatto un po' di premessa sulla use effect perché è una chiamata importante di react è una primitiva importante dobbiamo saperla usare bene e anche prevenire e poi correggere se siete in laboratorio e ci sono problemi eventuali errori un problema può essere il ciclo infinito e il problema può essere sottile come avete visto ci abbiamo usato un oggetto come dipendenza una lista cioè un array come dipendenza evitiamo bene adesso veniamo al caso che ci interessa di più ossia adesso andiamo a fare le modifiche sui dati che è quello che ci manca nella nostra applicazione e manca nella vostra in laboratorio dobbiamo gestire l'aggiunta la cancellazione e la modifica l'update più o meno complesso dal modificare un solo campo del film a modificare tutto il film o nelle mie risposte a dare l'upvote quindi fare più uno sul voto piuttosto che modificare titolo autore e così via ok allora come facciamo allora prima di tutto dobbiamo scrivere la chiamata nell'api per andare a fare l'operazione sul server perché se il server non è informato continuiamo a restare nel caso di prima cioè le modifiche stanno sul client e nessuno le salva allora per andare a fare le modifiche sul server cosa facciamo facciamo quello che abbiamo sempre fatto finora fetch con l'url corretto sul server quindi avremmo fatto api non so avrete films lo chiamiamo con si questa era una aggiunta quindi post e ci metteremo il contenuto che sarà un oggetto vi ricordate come funziona la fetch abbiamo detto la fetch senza parametri fa una get col secondo parametro il secondo parametro è un oggetto che ha una serie di campi uno è il metodo che di default è get se ne vogliamo un altro dobbiamo scriverlo qui noi mettiamo post e poi se abbiamo bisogno del body mettiamo il body qui ok qui è element qui dovremmo trasformarlo in json se noi vogliamo fare json forse questa magari la ne parlo con i colleghi se è il caso di correggere o no penso di sì perché alla fine qui viene aggiunto e poi c'è content type application json ok e poi noi avevamo la nostra set list items c'erano gli item di prima abbiamo aggiunto l'elemento questo diciamo senza la chiamata al server è la nostra aggiunta di prima giusto voi cosa facevate in laboratorio avevate la lista dei film in memoria aggiungete un film e questo compare e questo va bene sul client nel momento in cui abbiamo anche il server che facciamo facciamo la modifica sul client facciamo la modifica sul server facciamo sul server e poi ricarichiamo e prendiamo quello che ha scritto il server lo portiamo sul client aspettiamo cosa facciamo vedere mentre avviene la modifica sul server e vi ricordo che la modifica sul server può andare a buon fine oppure no e non lo sappiamo fino a che non abbiamo una risposta questi sono i problemi che abbiamo da gestire nell'applicazione web non è come fino ad ora in cui era codice sul client il codice funziona o non funziona o l'aggiunto la fa o se non la fa voi scrivete immediatamente errore qualcosa se siete non avete scritto nell'interfaccia fate console log fate quello che volete ma potete fare qualcosa se coinvolgiamo un'altra parte che è il server noi mandiamo una richiesta e aspettiamo e cosa facciamo mentre aspettiamo questo è il problema che dobbiamo risolvere ora quindi di fatto abbiamo due aggiornamenti da fare uno è nell'applicazione web nell'interfaccia noi dobbiamo dare una qualche forma di come dire di riconoscimento all'utente che ha fatto un'azione se no sembra che non abbia funzionato e poi abbiamo un'altra azione che sta avvenendo ossia la richiesta che noi abbiamo mandato al server e di cui dobbiamo aspettare la risposta che facciamo per gestire bene entrambe le cose allora dobbiamo decidere che approccio vogliamo utilizzare ci sono diversi approcci uno è questo è il cosiddetto optimistic update diciamo noi assumiamo che sul server tutto andrà bene quindi noi visualizziamo già la modifica sul client come facevamo prima safe list items con il nuovo elemento e questo scatena renda diretti e immediatamente viene aggiunto come capitava a voi prima senza server e nel frattempo facciamo la fetch verso server ok quindi diciamo abbiamo risolto il problema in una maniera è chiaramente un po' rischiosa perché se poi il server non aggiunge questo elemento per qualsiasi motivo non so c'è già un altro film con lo stesso titolo e voi avete deciso che il titolo è unico o qualsiasi altro motivo che facciamo nell'interfaccia abbiamo mostrato che è aggiunto e sul server non è stato aggiunto si è creato un disallineamento e chiaramente è un approccio un po' rischioso d'altronde l'alternativa qual è? è che io non faccio l'aggiornamento subito ma lo faccio solo se il server mi da l'ok quindi posso aspettare l'ok del server e qual è il problema? il problema è di tipo diverso è che l'utente che usa l'applicazione non ha un feedback non sa se la richiesta verso il server è partita e se questa richiesta verso il server sta venendo lavorata o no pensate alla vostra applicazione prenotate il posto sul treno ok bello mi piace lo prenoto clic e poi ci va il suo tempo sul server e intanto non succede niente e che fa l'utente anche voi che siete esperti magari voi che siete esperti avete un po' più di pazienza l'utente normale ah non avrà preso il clic clic di nuovo e parte la seconda richiesta clic e parte la terza richiesta bisogna in qualche maniera informare l'utente che qualcosa sta avvenendo questa sarebbe la situazione ideale ok perché se no l'utente non capisce che la richiesta è partita e deve attendere infatti nei siti fatti bene quando pagate qualcosa poi cliccate e se il sito è fatto bene immediatamente viene fuori subito non fare più nulla aspetta però è sul client e stanno aspettando di vedere cosa succede sul server ok questo è un po' il limite diciamo di come gestire la cosa noi non vogliamo far sparire tutto aspetta ok ci piacerebbe un meccanismo un po' più flessibile adesso proviamo a crearlo però volevo farvi capire che ci sono due estremi uno è essere estremamente ottimisti no quindi faccio immediatamente la modifica sul client e spero che tutto vada bene sul server eventualmente lo dirò dopo se c'è un problema cioè ve lo faccio comparire poi vi viene fuori dopo un po' error insomma oppure clicco non succede niente e poi arriverà la risposta corretta error oppure l'aggiornamento però intanto non succede niente siamo a metà tra queste due opzioni che dipendono da dove io vado ad aggiornare la mia lista cioè il dato che io poi devo visualizzare bene allora vi proponiamo una soluzione intermedia che ci aspettiamo che usiate l'esame di nuovo non è strettamente indispensabile nel senso che piuttosto che non consegnare nulla consegnate qualcosa che usa uno dei due approcci magari il secondo è più safe perché è vero che non succede nulla ma noi pazientiamo un pochino pazientiamo un pochino nel senso che stiamo testando la vostra applicazione insieme a voi quindi è vero che ci piacerebbe che fosse usato il meccanismo che spieghiamo a lezione però è anche vero che non è che tutti prendono 30 o 30 load quindi dobbiamo anche valutare le applicazioni per quello che effettivamente è stato fatto per cui un po' di pazienza ce la mettiamo e cerchiamo di capire piuttosto chiediamo c'è chi risponde non ho avuto tempo chi risponde non mi è venuto in mente insomma o chi semplicemente ha detto l'ho fatto in un'altra parte dell'applicazione e qui non sono riuscito a farlo e così via ok è chiaro che l'applicazione ben fatta ben sistemata ben testata prenderà sempre 30 load ok se la sapete spiegare però le altre applicazioni hanno anche una gradazione che va dal 18 in su quindi insomma noi qui cerchiamo di spiegare l'applicazione come dovrebbe essere fatta idealmente però voi partite dal mettere insieme l'applicazione farla funzionare nei casi semplici quindi senza il waiting iniziale senza questo meccanismo e così via a meno che non siate confidenti avete fatto tanti laboratori tutto il laboratorio eccetera sapete già come fare allora fate prima mettere tutto insieme però piano piano una volta che lo scheletro di base l'applicazione funziona cominciate ad aggiungerci le varie funzionalità come dire di raffinamento gestione degli errori gestione di queste condizioni il waiting e così via perché se l'applicazione non funziona cioè se chiediamo che deve venire fuori una lista poi un dettaglio eccetera io clicco non esce il dettaglio e il dettaglio non c'è c'è un pezzo di applicazione che manca una cosa grave se invece si carica ma non c'è il waiting non c'è questo vabbè vediamo vediamo come è fatto tutto il resto dell'applicazione ok così nel brattempo parliamo anche un po' di esame allora come fare ecco noi vi consigliamo di fare questa operazione allora a noi dispiace non dare un feedback all'utente di qualsiasi forma ok perché come detto rimane molto brutto noi scriviamo le single page application con l'idea che tutto avviene sul client quindi noi abbiamo del codice che può reagire agli eventi e non fare nulla è un peccato diciamo così dal punto di vista dell'applicazione bisognerebbe che l'utente sia informato che qualcosa sta avvenendo poi non è detto che vada a buon fine ma qualcosa sta avvenendo allora noi vi consigliamo di far partire sicuramente l'operazione verso serve che tanto prima o poi deve partire ma di far aggiornare anche l'interfaccia dell'utente aggiornando i dati ma possibilmente aggiornandoli in una maniera in cui si veda che il dato per ora è temporaneo e non è ancora consolidato sul server ok cioè potrebbe sparire potrebbe non essere definitivo quindi aggiorniamo lo stato in parallelo così l'utente vede che qualcosa è successo e parliamo dello stato dell'applicazione la nostra lista set list items items col nuovo elemento e magari lo marchiamo in una qualche maniera che dice che è temporaneo dalla scrittina al cambiare il colore a fare qualcosa che faccia capire all'utente che occhio non è come tutti gli altri sta venendo processato intanto il processamento avviene quando finirà facciamo un refresh di tutto il contenuto dello stato che ci interessa che siamo andati a modificare in maniera da avere uno la conferma di quello che è successo sul server quindi se l'aggiunta è andata a buon fine ci sarà e se non è andata a buon fine non ci sarà nella lista e in più torniamo al caso precedente ricordate che abbiamo detto c'è la soluzione meglio di niente abbiamo ricaricato i dati dal server quindi se nel frattempo qualcuno ha cancellato qualcos'altro ha modificato qualcos'altro noi abbiamo una versione aggiornata dei dati tanto dal server siamo dovuti passare era il momento in cui andavamo sul server tanto vale caricare tutte le informazioni rilevanti per quella vista dell'applicazione ok quindi questo è il nostro consiglio modifica lato client dicendo che c'è una cosa temporanea ovviamente richiesta al server e al termine della richiesta del server ricaricare i dati ok così c'è l'aggiornamento se è andato buon fine più l'aggiornamento dei dati secondo cosa hanno fatto anche gli altri che sono coinvolti nell'uso del server quindi in sostanza vedete c'è la set list che non è dopo la wait perché qui ho usato la wait se c'era il den catch mettevo nel den qui ho usato la wait la faccio prima ma lo scrivo temporaneo e poi dopo la wait avrò la risposta del server quindi se response ok scateno get items e get items va a fare una fetch di tutti gli elementi e fa set e quindi mi refrescia tutto il contenuto mi farà sparire temp perché temp l'ho inserito io solo sul client quando rimetto la lista degli item ci sarà la lista degli item col nuovo elemento senza più scritto temp e intanto ho aggiornato lo stato e l'ho reso coerente con l'ultima versione dei dati sul server ok qualcuno ha dei dubbi su questo meccanismo di procedere per procedere non sembra ok bene allora io farei così visto che abbiamo solo più 8 minuti non mi metto a fare modifiche sul codice lo facciamo dopo però abbiamo 3 slide cominciamo col quiz intanto sono proprio poche così concludiamo la parte teorica di oggi e dopo ci dedichiamo al codice e facciamo in modo di fare funzionare il codice secondo questa modalità noi abbiamo fondamentalmente finito di parlare di hook in questo corso ci sono tanti hook dentro react come avete visto quelli che ho nominato oggi eccetera però diciamo gli hook che ci servono sono 3 use state use context se vi serve il context e use effect come funzionano questi hook qual è la magia che li fa funzionare e non ci interessa tanto la magia perché non è che andiamo a smontare la libreria di react però ci interessa soprattutto cosa non fare per rompere la magia diciamo così come fa react con la stessa chiamata use state in cui non c'è un parametro ma c'è il nostro valore iniziale dello stato a ricordarsi che una use state è che so hidden l'altro è la lista dei film il terzo è cos'era lo show form e così via chiamiamo sempre la use state qual è la magia che ci sta dietro beh la magia è sostanzialmente che voi quando fate queste chiamate use state in particolare allocate uno slot quindi una casellina in un array che react tiene associato ad ogni vostro componente cioè voi siete nel componente esempio fate tre use state react sa che la prima use state corrisponde a una certa variabile la seconda un'altra la terza un'altra perché se lo segna in un array che tiene da parte per i fatti suoi ok quindi i valori le funzioni eccetera andranno a modificare la casellina corretta dell'array perché sa che il primo corrisponde al primo il secondo corrisponde al secondo e il terzo corrisponde al terzo quindi se la casellina è vuota nel caso dello stato lo stato deve essere creato e se la casellina è piena vuol dire che lo stato l'ha già creato e si prende il valore della casellina e si dà al codice come valore di ritorno il primo valore di ritorno della use state questo ha una conseguenza ok quindi oltre a far funzionare il meccanismo come l'abbiamo visto finora cioè noi facciamo la use state non ci preoccupiamo e poi magicamente ci torna il valore corretto però c'è anche la conseguenza che gli hook devono essere chiamati sempre nello stesso ordine perché ogni volta che noi chiamiamo un hook in react va a cercare nella casella del suo array qual è il valore che corrisponde al nostro hook se uno use state uno use effect e così via ok quindi gli hooks devono sempre essere chiamati nello stesso ordine ogni volta che viene effettuato il render il componente cioè nel codice che descrive il componente ok o voi può sembrare banale beh se li mettiamo all'inizio in effetti è banale però magari a qualcuno potrebbe saltare di chiamare una use state dentro un for piuttosto che dentro un if piuttosto che in funzione di date in altri posti strani ecco non fatelo perché così gli hooks non funzionano più perché se non vengono chiamati nello stesso identico ordine ogni volta non funzionano più ok quindi tutto questo discorso è semplicemente per dire che react gestisce gli hooks per conto suo e li gestisce correttamente solo se ogni volta che entriamo nel componente li richiamiamo nello stesso identico ordine ok quindi gli hooks si devono chiamare sempre nello stesso ordine per non sbagliarci possibilmente lo facciamo all'inizio in maniera che siano ben visibili non abbiamo ancora scritto codice if for altre robe che magari potrebbero per sbaglio farli infilare nel body di queste strutture di controllo per cui poi li chiamiamo diversamente e non chiamateli mai al di fuori dei componenti ma questo forse è un po' più scontato non potete chiamarli al di fuori di un componente perché poi react non sa in che componente siete e non riesce più associarli al codice quindi sarebbero comunque inutili potete creare i custom hooks che non vediamo in questo corso mi spiace di nuovo però dobbiamo darci un limite se volete qualcuno è già capace a usare react si stufa perché non so siamo troppo semplici nelle spiegazioni sa già usare react e così via noi all'esame va bene diciamo così tutto basta che si sappia spiegare è chiaro che non è che può arrivare uno quel custom hooks io ne vedo uno e chiedo cos'è questo e non mi risponde il custom hooks finisce che vuol dire che non ha fatto lui o lei ok se invece mi sa spiegare cos'è un custom hook e soprattutto perché l'ha fatto perché noi tendenzialmente diamo temi d'esame relativamente semplici non ci aspettiamo che ci sia bisogno di fare i custom hooks ok se sa spiegare come mai l'ha fatto o come mai ha usato un hook che non era tra quelli che abbiamo spiegato i tre use state use context use effect va bene se però non si sa spiegare queste cose il dubbio giustamente sorge ok quindi quello che spieghiamo è sufficiente seguite le nostre regole se vi discostate dovete sapere o benissimo cosa state facendo piuttosto chiedete consiglio il telegram rimarrà aperto anche durante gli esami rimane aperto tutto l'anno è chiaro che non postiamo una soluzione sul telegram però se qualcuno gli viene su un'idea stranissima eccetera diciamo che limitatamente a quello che si può fare diciamo senza dare una soluzione cerchiamo di reindirizzarvi sulla strada buona ok magari ci sono cose un po' a cui non abbiamo pensato nel tema d'esame uno comincia a interpretare strano e così via e cerchiamo di rimettervi in careggiata ok quindi monitorate il telegram e soprattutto non scrivete singolarmente perché non è che non voglio rispondervi singolarmente ma perché ritengo giusto ma come i colleghi che se do una risposta a uno la vedano tutti ecco perché poi se no sa di suggerimento ad persona ma che ovviamente sarebbe un po' brutto soprattutto quando parliamo di esame se siete nelle grane in un laboratorio o un discorso tanto più che non sono da consegnare per l'esame se dico una cosa a uno che ne possono trarre vantaggio tutti in maniera che siano tutti allineati allo stesso livello ecco poi facciamo un po' di pausa e dopo sistemiamo la nostra applicazione ok ok grazie a tutti grazie a tutti